La collezione è ambientata un po' sulle vacanze, sull'estate, con dei colori molto belli che vanno dal rosa, al giallo, all'arancia, al fucsio. E' una donna che vive la sua vita con realtà, con praticità, quindi niente voli pindarici, i piedi per terra, ma con delle cose bellissime. Io adoro il suo essere sempre fresca, essere elegante, poi essere un po' baby, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. La collezione è ambientata un po' di più, allo stesso tempo essere sensuale, l'essere donna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.